Questi che vedi qui sono i principali sintomi fisici di problemi di stati di ansia costante, ovvero la pesantezza delle braccia e delle gambe che sembrano quasi faticare a muoversi e la pesantezza degli occhi che addirittura a volte sembra di non vederci bene. La sensazione di scariche elettriche alle braccia e alle gambe e fascicolazioni, come se i muscoli vibrassero anche quando siamo a riposo. I bruciori, quindi non soltanto il dolore a livello della colonna, ma proprio la sensazione che la colonna bruci e naturalmente il dolore a livello dei muscoli causato dalla forte tensione. Se hai diversi di questi sintomi, ma basta anche uno soltanto, significa che il tuo sistema nervoso, a causa di stati di ansia persistente, è arrivato anche a intaccare la parte fisica o la parte muscolare e che quindi c'è bisogno di opporre un po' di input positivi agli input negativi che arrivano dal sistema nervoso. Per sapere come, vai sul mio sito all'altrareabilitazione.it o clicca sul mio profilo.